il signore sia con voi dal vangelo secondo luca quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di mosè maria e giuseppe portarono il bambino a gerusalemme per offrirlo al signore come è scritto nella legge del signore ogni maschio primogenito sarà sacro al signore e per offrire in sacrificio una coppia di torte o di giovani colombi come prescrive la legge del signore ora a gerusalemme c'era un uomo di nome simione uomo giusto e timorato di dio che aspettava il conforto di israele lo spirito santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il messia del signore mosso dunque dallo spirito si recò al tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino gesù per adempiere la legge lo prese tra le braccia e benedisse dio ora lascia o signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo israele il padre e la madre di gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui simione li benedisse e parlò a maria sua madre egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in israele segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'animo c'era anche una profetessa anna figlia di fanuele della tribù di asera era molto avanzata in età aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni non si allontanava mai dal tempio servendo dio notte e giorno con digiuni e preghiere sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di gerusalemme quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del signore fecero ritorno in galilea alla loro città di nazareth il bambino cresceva e si fortificava pieno di speranza di sapienza e la grazia di dio era sopra di lui parola del signore in uno dei viaggi a gerusalemme in terra santa una sera dopo aver cenato sostavamo nella nella hall di questo grande albergo della parte ebraica di gerusalemme e vicino ai nostri tavolini dove chiacchieravamo del più e del meno c'erano qua e là una coppia di giovani tra i 18 20 anni più o meno di più forse anche meno di 20 certo un ragazzo e una ragazza evidentemente ebrei lui vestito in nero con la camicia bianca il cappello in testa e lei con gonde sotto il ginocchio le calze pure d'estate le ballerine tanto per darvi un'idea un quadretto di quello che lo so che cosa pensate che sono cose d'altri tempi certo infatti sono di altri tempi e io ero un po incuriosito di questi gruppetti no qua e là di giovani che si sorridevano parlavano amabilmente bevano qualche bibita certamente non alcolica a un certo punto ho chiesto alla nostra guida chi fossero e perché fossero lì e lui mi ha detto sì questi sono giovani che sono stati promessi per il matrimonio per sposarsi dai sensali di matrimonio che hanno parlato con le loro famiglie già lo so pure che state pensando adesso e poi si stanno conoscendo per accettare per accogliere questa cosa che altri a posto loro hanno fatto per vedere se è possibile magari cambieranno idea però è un modello che è stato posto loro quale modello il modello di una famiglia borghese dove ciò che lega le due persone il sentimento dove quando il sentimento finisce bisogna prepararsi a trovarne un alto di sentimento dove tutto è affidato a una immagine laica e liberale della vita e dove perfino le cose che contano vengono date in prestito ai supplenti che sono i catechisti della parrocchia e lasciatevelo dire qualche volta non lo sanno manco loro quello che dicono qual è l'alternativa questa quelle si sposano fanno tanti figli noi li guardiamo con un atteggiamento così di disprezzo anche un po risibile no diciamo ma questi è ancora ancora fanno queste cose invece noi no noi ci risposiamo tante o anzi non ci risposiamo saltiamo a destra e a sinistra ma voi dite è un discorso così moraleggiatore sulla situazione attuale no figuratevi non è proprio il mio caso non mi interessa proprio ma parla una famiglia quella che noi abbiamo fatto passare per famiglia cristiana facendo pure la giornalino la che nasce in parrocchia che qualche volta è fatta da membri animatori della parrocchia e che non funziona e che finisce proprio quando pur nata dentro la chiesa è appoggiata solo sulla fallace realtà dei sentimenti una madre non continua ad amare suo figlio per il sentimento lo continua ad amare perché vede lui una prospettiva un uomo può amare la moglie non per il sentimento ma perché vede lei una prospettiva e la moglie nel marito e tutte e due servono questa prospettiva finché non produca il bene nelle generazioni che vengono e quando non ce la facesse comunque consegnerebbero una speranza alla generazione che viene perché faccia meglio non così la nostra famiglia cristiana da quattro soldi che non ha neanche regalato la speranza alle generazioni che vengono tant'è che questi figli ormai ditevelo voi si sposano in chiesa no battezzano i figli nemmeno e io voglio scandalizzarvi oggi sapete perché perché voglio dire meno male che non fanno così meno male che non riproducano una realtà fallace che non funziona chissà che non facciano come questa famiglia di nazareth che non era la famigliola del falegname e la ragazzina e il bambinello che andavano in giro con l'asinello per gerusalemme dintorni no guarda che cosa dice luca che probabilmente l'ha sentito proprio da maria questo racconto proprio dalla madonna o dall'ambiente vicino a lei dice che quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di mosè dunque c'è uno statuto la legge di mosè che per te per carità è una legge quindi si deve per forza mettere da parte ma quella legge di mosè è sapienza è la sapienza che dio ha aperto agli uomini dice il deuteronomio perché vivano no perché stiano sottomessi da non so quale istituzione umana portarono il bambino a gerusalemme per offrirlo al signore come è scritto nella legge di mosè questa ottemperanza la legge è fedeltà alla sapienza poiché sta scritto ogni maschio primogenio sarà sacro al signore e per offrire in sacrificio i colombi come prescrive la legge di mosè sia chiaro dice luca noi stiamo parlando non di un gruppetto di amici stiamo parlando di alcuni che hanno una legge qual è questa legge lo diceva la prima lettura è un'alleanza è quell'alleanza che ha permesso ad abramo che era vecchio e una moglie pure vecchia e sterile lo so che anche questo vi fa fastidio pensarlo va permesso a questa coppia impossibilitata a diventare la coppia che ha generato una moltitudine di figli diceva diceva il libro della genesi che abbiamo ascoltato prima dunque come le stelle del cielo per dire una discendenza dall'impossibilità questo contraddice quel atteggiamento che noi abbiamo di fronte alle promesse di dio e diciamo ma è impossibile ma è troppo difficile troppo difficile troppo difficile ma noi una logica che reggesse non l'abbiamo opposta ma noi un linguaggio che desse vita all'uomo non l'abbiamo offerto e l'uomo muore pure noi moriamo le nostre speranze la nostra fiducia le nostre relazioni però siamo liberi dalla legge che bello era meglio stare sotto la legge quasi quasi ma una legge ce l'abbiamo anche noi la legge dell'amore per la quale anche abbiamo detto che è impossibile amare il prossimo tuo come te stesso come dice non sia mai c'è scritto poi poi un'altra figura della legge questo simeone che dice quando vede arrivare queste persone dice ecco finalmente ho visto ora lascia posso pure morire signore perché tu mi hai fatto una promessa io ho aderito e adesso vedo che questa si è realizzata posso raggiungerti una logica formidabile una logica che sa di vita eterna che non ha paura della morte che non ha paura di nulla questo l'abbiamo consegnata a noi alla generazione che viene nemmeno poi finalmente quello che ci piace un approccio solamente legato alla natura che pure questa però oggi è messa va bene questo approccio legato alla natura è riaffigurato in questo racconto di Luca della profetessa Anna profetessa Anna ma chi era la moglie di Fanuele meglio ancora che aveva 84 anni ed era vedova da quando era stata sette anni con il marito sette anni con il marito come la creazione sette anni è stata con il creatore ed è rimasta vedova e un multiplo di sette 84 anni ha ormai un multiplo di sette moltiplicato dodici volte per dire che la natura ha aspettato lo svilupparsi e il crescere di tutte le generazioni che si riconoscono nelle dodici tribù di Israele e questa natura sta anche lei là ad aspettare vuol dire che pure questo mondo sta là ad aspettare laico liberista lontano e vatte la pesca come è sta pure quello aspettando di vedere quando questa promessa si realizzerà e noi siamo in mezzo siamo in mezzo oggi decidiamo di stare in mezzo a tutta questa realtà con lo spirito di questa piccola famiglia di Nazareth nata cresciuta e vissuta e spostata nell'eternità dentro una piccola speranza che Giuseppe potesse essere il padre del figlio di Dio che la Vergine potesse essere la madre che ha creduto alle parole dell'angelo e il figlio di Dio che cresce in sapienza e grazia secondo la legge per restituire agli uomini la libertà quella libertà vera quella che nessuno ci può togliere che è proprio legata strettamente alla legge di Dio questa è la nostra speranza in un mondo che muore diciamo con le volti coperti dalle mascherine non abbiamo la speranza nei vaccini che pure faremo tutti quanti con obbedienza ma ci apriamo a un mondo che ci chiede di dire una parola nuova e la diremo con una forza interiore veramente rinnovata quella che poggia tutto il suo essere e la sua fedeltà sulla fedeltà di Dio in Gesù Cristo e nostro Signore Padre Santo e Misericordioso tu non ci hai imposto una legge che ci mettesse in difficoltà davanti alla vita ma il dettato del tuo stesso amore trinitario declinato nella parola umana perché tutti i tuoi figli potessero imparare per vivere vivere per servirti servirti per portare a compimento il tuo progetto in questo tempo della storia mentre ci apprestiamo a lasciare un modo di pensare per aprirci al vino nuovo che tu ci hai promesso darci la possibilità di chiederti ciò che è buono e anche la grazia di ottenerlo per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa possa rinnovarsi la tua sposa metta le vesti più belle vesta il candore della grazia che tu le hai riservato ma si apra al più generosamente alle necessità di questo tempo si dimentichi del potere umano e conosca piuttosto la misericordia e la pratica verso tutti gli uomini in difficoltà per questo ti preghiamo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso di perdonare la nostra stoltezza quella che la nostra mediocrità umana ci ha messo nelle condizioni di vivere e di testimoniare abbiamo ferito il nostro prossimo non gli abbiamo consegnato la speranza che tu avevi innestato in noi non l'abbiamo aiutato a rialzarsi lo abbiamo giudicato molte volte dacci l'occasione di riparare se ci perdoni questo peccato metteci nelle condizioni anche di guarirlo per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso proprio in questa generazione gli uomini privati della speranza di poter vivere secondo i tuoi decreti perché non conoscono più le tue vie sono diventati preda di tutte le cose nefaste di questo tempo gemono e soffrono talvolta anche nascondendolo il male che vivono ma tu Signore Dio compassionevole lento all'ira e grande nell'amore abbi pietà dei tuoi figli guariscili dalle malattie sostienili in questo tempo innesta in loro una speranza nuova per questo ti preghiamo ti prego Padre Santo per questi i tuoi figli abbi compassione di loro molti di essi portano la ferita di una famiglia smembrata sentono l'abbandono per la storia che hanno vissuto sono messi alla prova nella fiducia talvolta anche nella fede per i dolori che hanno sopportato restaura le loro relazioni rinforzali fa che possano dare ai loro figli la speranza che non hanno vissuto né ricevuto te lo chiedo per Cristo nostro Signore grazie a tutti grazie a tutti